I miei amici che mi succede qua, datemi il suo foglio, mi metto tra Gerardo e Bauro con cui ho passato questo magnifico pomeriggio mi sono veramente divertita, ci siamo allungati un po' troppo ma non fa niente, avevamo detto che era un work in progress quindi adesso io mi devo godere, devo fare Michele Santoro adesso, che meraviglia, questo è il mio momento Santoro Eccolo qua, la citiamo, mi godo, le vignette, sono io, sono io, io che faccio il Santoro con Bauro l'abbiamo fatta vedere nel promo, va bene, parti con il tuo bel racconto il racconto è questo, una cosa fra tanto casino e chiara, che questo virus non ha nessuna intenzione di sloggiare molto presto quindi dobbiamo, ce lo ripetono anche spesso, abituarci a convivere con il virus ma è una bella convivenza, infatti anche qui, dobbiamo abituarci a convivere con il virus e io che mi lamentavo per mia suocera, mi sembrava già dura così ma poi il virus arriva, è un bel rompicoglioni lo posso dire, e si presenta da tale convivere con il virus, ha intenzione di fermarti molto? Tu casa es mi casa, amico, e come vedi, sei portato un po' di valigie e lì comincia il dramma della convivenza ma mi hai svuotato il frigo, che ti frega, tanto tu i sapori manco li senti quanto è cattivo il virus è un carognone proprio eh, lo vedo l'hai fatta fuori dal vaso, che ti frega, tanto tu gli odori non li senti cioè proprio lui è invadente, diciamo la verità e si piazza pure sulla poltrona, eccolo qua c'è De Luca in tv, ridammi subito il telecomando col cacchio, mi fa troppo ridere, vammi a prendere una birra e non contento della televisione, pure il telefonino frega ecco, pure il telefonino mai fregato non rompere, sto giocando ai muni eh beh, giusto lui ci gioca perché tutti i miei non ci ha funzionato granché e appunto lui ci diverte moltissimo invece e infatti anche la sera poi c'ha altri divertimenti eccolo qua ma che ci fai sul mio letto? chiudi la porta guardone che mi sto a riprodurre ah, Gesù, i virusini e la sera poi, guarda ti sembra questa l'ora di tornare? niente, coprifuoco per me, bellezza invidiosetto, eh? ma ci sarà il momento del riscatto, eccolo qui eh, hanno trovato il vaccino mamma mia che paura, mi tremano le ventose il virus è carognolo, eccolo qui, che lo fa? guarda, guarda che fa è inutile che ti fingi morto mica mi chiamo Zangrillo io non ci cadiamo beh, meraviglioso, grazie bravo, bravo grazie a voi ma c'è ma c'è